Benvenuti in un nuovissimo video sul RollerCoin, nel video di oggi vedremo come ottenere una batteria velocemente una volta al giorno in meno di un minuto. Se diamo un'occhiata alle missioni giornaliere vediamo che ci danno una batteria se completiamo una missione. Cosa sono le missioni? Si tratta delle missioni che si trovano nella sezione Taskwall. Come completare la Taskwall in meno di 30 secondi? Beh seguite semplicemente i miei passaggi. Andiamo su Taskwall. Quello che dovete scegliere voi è Monolix. Da Monolix andate su ADS. Scegliete un ADS qualsiasi e cliccate su Watch AD. Vi apparirà una finestra, quando la linea verde arriverà alla fine avrete visto il vostro AD. Bene, come potete vedere dopo aver visto l'AD diventa grigio e nella Home avremo completato il nostro Task. Per cui possiamo collezionare la nostra batteria. In questa maniera sarà anche molto più semplice completare i 5 Task, che è una missione settimanale per ottenere 60 punti. Possiamo quindi utilizzare la nostra batteria giornaliera per ricaricare la nostra energia. Per il video di oggi è tutto, vi ricordo che se volete giocare a questo gioco il link lo trovate in descrizione. Ciao! Ciao!